Una proroga alla chiusura da inserire nella prossima legge di stabilità che il Parlamento sarà chiamato ad approvare entro la fine dell'anno. Questa è la nuova speranza per riattaccare la spina al morente tribunale di Tolmezzo a seguito del decreto legislativo di revisione della geografia giudiziaria varato nel settembre scorso dal Governo. L'anno illustrata sabato pomeriggio a Chiavari in Liguria i responsabili dei settori giustizia e dei tre maggiori partiti che appoggiano il Governo Monti, PD, PDL e UDC. I deputati Andrea Orlando, Enrico Costa e Roberto Rao durante il raduno di amministratori locali, magistrati, avvocati e comitati dei sei distretti di giustizia italiani che non si rassegnano alla razionalizzazione imposta dal Ministro Paola Severino, ossia oltre a Chiavari e Tolmezzo anche Lucera, Pinerolo, Bassano del Grappa e Rossano Calabro. A comporre la spedizione carnica c'erano il Sindaco Zearo, il Procuratore della Repubblica Buonocore, il Giudice Luongo per il Tribunale, la Presidente dell'Ori negli Avvocati Barbara Comparetti e una nutrita rappresentanza del comitato che è sorto in difesa del Tribunale. Un ultimo assalto insomma per difendere questi presidi di giustizia che però si preannuncia assai complesso, ha spiegato al termine dell'incontro l'Avvocato Comparetti. Scartata perché di ordua a realizzazione l'ipotesi iniziale di uno specifico nuovo disegno di legge che recepisse quanto già espresso in sede ristretta dalle commissioni parlamentari, le responsabili giustizie dei tre partiti emersa l'opportunità di creare un emendamento da far votare all'interno del testo della legge di stabilità che il Parlamento sarà chiamato appunto ad approvare entro la fine dell'anno attraverso il quale ottenere la proroga per i sei tribunali. Anche se, precisa la Comparetti, a ciò occorrerebbe anche di pari passo ottenere una modifica alla cosiddetta regola del tre contenuta nella delega al governo e che stabilisce il minimo di tre tribunali e tre procure per ciascuna corte d'appello. Rimaniamo comunque fiduciosi, ha concluso la Comparetti, una proroga che appare sempre più opportuna visto che anche a Udine si sono resi conto, meglio tardi che mai, che per accorpare gli uffici e il personale carnico, oltre a quello di Palmanova, servirebbero nuovi spazi, nuovi immobili e nuovi danari.